salve a tutti ragazzi bentornati su go games oggi andremo a vedere dove trovare un altro dipinto il dipinto in questione si chiama monte rosso ci troviamo a calade la grazia che prendiamo come punto di riferimento a escalinata di seglia e da qui vi faccio vedere la strada ed ecco qui si ci arriva facilmente fate attenzione ai nemici invisibili che appaiono una volta trovato il quadro dovremmo dirigerci a forte farrot esattamente qui da qui dovremmo fare un percorso un po' pericoloso si rischia di cadere la posizione dell'artista è più o meno qui vi faccio vedere la strada e fate molta attenzione a non cadere un po' pericoloso qui ci sarà un gigante un pochino ostico da battere ma vi farò vedere comunque quello che droppa e il pittore lo troverete esattamente qui cenere di guerra pioggia di strali ora vi faccio vedere che cosa contiene quel droppo viola dietro questo golem è un po' pericoloso 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 come avete potuto ben vedere il drop era una semplice saietta runica e uccidere questo boss che dire che è incazzato e poco non è servito a una beata cippa per cui con molta tranquillità lo potete schippare grazie mille a tutti per averci seguito e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti